No, non è vero, io non ho niente da riprovarmi, mi sembra aver fatto delle cose gravi. La mia vita? Una vita normale, voglio dire, non l'ho mai rubato neanche in casa da piccolo, non l'ha abbazzato nessuno, figuriamoci. Lavoro, famiglia, pago le tasse, non mi sembra avere delle colpe, ecco, non l'ho mai fatto neanche l'assessore per dire. Come? Ah, voi parlavate di prima, prima, prima mi sono comportato come tutti, non so, come mi vestivo, mi vestivo come ora, ecco, ma magari non proprio come ora, un po' più di jeans, un maglione, l'eschimo. Perché? Non va bene? Era comodo, no. Come? Cosa cantavo? Oh, questa poi. Volete sapere cosa cantavo? Ma sì, certo, anche, anche canzoni popolari, sì. Ciao, bella, ciao. Devo parlare più forte? Ciao, bella, ciao. E anche l'internazionale, sì. Però in coro, eh. Sì, quello sì che l'ho, lo ammetto, sì. Ci sono andato, sì. Li ho visti anch'io di un tillimani. Però non ho pianto. Come? Se in camera ho delle foto. Certo, c'ho le foto dei miei genitori, di mia moglie, di mie... Manifesti? Un ricordo, forse uno, piccolo, poi. C'è che vale. Ma cos'è? Un processo, voglio dire, eh? No, no, quello no, no, quello mi dispiace, ma io il pugno non l'ho mai fatto. Il pugno, mai, 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 mai. Forse una volta, ecco, un pugliettino piccolo, proprio. Come? Se era comunista? Mi piacciono le domande dirette, eh? Volete sapere se era comunista? No, no, finalmente, adesso non ne parla più nessuno. Tutti fanno più del niente, invece è giusto chiarirle queste cose, no, altre tutte. No, se ero comunista. In che senso? No, voglio dire, qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche voi. Lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché la storia è dalla nostra parte. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gliel'avevano detto tutti. Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Anderotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva le feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più rifare l'operario. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no. Domani forse ma dopo domani sicuramente. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il voletaria trozza di classe. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava solo Rai 3. Qualcuno era comunista per moda. Qualcuno per principio. Qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo lieve. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo stato peggio che da noi solo Luganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di per la cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più per la cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno era comunista perché credeva di essere comunista e forse era comunista. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella averigana. Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice solo solo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una scuola. spinta verso qualcosa di nuovo. Perché era disposto a cambiare ogni giorno. Perché sentiva la necessità di una morale diversa. Perché forse era solo una forza, un buono, un sogno. Era solo uno slancio. un desiderio di cambiare un desiderio di cambiare le cose. Di cambiare la vita. Qualcuno era comunista perché con accanto a questo slancio ognuno era come più di se stesso. Era come due persone in una. da una. Da una parte la personale fatica quotidiana. E dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo. Per cambiare veramente la vita. No. No. Niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare. Come dei gabbiani ipotetici. E ora? E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito che attraversa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana. E dall'altra il gabbiano. Senza più neanche l'intenzione del volo. Perché ormai il sogno si era trapito. Due miserie. In un corpo solo. Bravo.